www.feyyaz.tv Guarda il scintile di partner non lo so dove c'è il suo polvere? mi conto, a occhio umano non lo vede, non lo so non lo so poi parte il giro non lo so 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 attenzione se lo fai ora quando viene perché dopo passa anche Bruno io faccio il solito video la solita struzza allora te lo faccio alla Slatan che lui non lo sa mai ultimo tiro eh che devo andare a letto Slatan fa così, guarda vai, veloce oppena grazie